ciao ragazzi da vittorio secondo video della giornata voglio fare con voi una riflessione importante questo calciomercato quello invernale la lazio si gioca tanto si gioca tanto soprattutto di credibilità perché quest'anno non puoi ripetere il solito calciomercato invernale degli anni passati ovvero con acquisti di giocatori di terza quarta fascia giocatori che facevano le riserve in squadre più deboli eccetera quest'anno devi fare il passo in salto di qualità ha preso maurizio sarri che per molti è considerato il miglior allenatore italiano del momento se non è il migliore è sicuramente uno dei migliori quindi ha fatto uno step importante in avanti per quanto riguarda l'allenatore adesso la società si gioca tanto si gioca tanto perché devi dimostrare di voler fare quel passo in avanti di portare la squadra a un livello superiore e lo devi fare tramite il calciomercato e a gennaio l'abbiamo detto deve iniziare la rivoluzione nessuno si aspetta 5 6 innesti però abbiamo detto due o tre di qualità sì due o tre innesti di qualità a gennaio devono arrivare devono arrivare non tanto perché ci vogliamo giocare la champions league eccetera ma per dare un segnale all'allenatore all'ambiente ai calciatori che la lazio ha invertito la rotta e che una volta che fa il suo sforzo per prendere sarri poi vuoi dare i giocatori validi a disposizione quest'anno in più non puoi dire come siamo stati abituati dai glitare a dire questa rosa non è migliorabile perché questa rosa è migliorabile e neanche poco diciamo che a gennaio ci accontentiamo di due o tre acquisti poi quest'estate vogliamo una rivoluzione importante però quest'anno la scusa della rosa non è migliorabile non esiste proprio perché la lazio non solo non è fra le prime quattro ma non è neanche vicina alle prime quattro per cui c'è tanto da lavorare la lazio in particolare la dirigenza della lazio ha un compito arduo perché ripeto si è messa una posizione scomoda quest'anno prendere un musacchio sarebbe un segnale terribile non sarebbe accettabile anche anche andare vicino a un giocatore stile girù come l'anno scorso e chiudere senza nessuno sarebbe un brutto segnale quest'anno la lazio non si può permettere un calciomercato anvernale deludente deve fare un calciomercato allo stesso livello delle altre big abbiamo visto la fiorentina già si è mossa la roma sta chiudendo un'altra trattativa insomma la lazio non possa riguardare quest'anno la lazio deve essere protagonista perché ripeto se prendi sarri e poi fai il calciomercato mediocre come gli anni passati allora sarri è inutile è stata solo uno specchietto per l'allodio per illudere i tifosi che la lazio voleva migliorare voleva fare un passo in avanti in realtà resta tutto così io so che molti di voi li leggo i commenti sono molto scettici molti stanno scrivendo vittorio tranquillo non arriverà nessuno arriverà soli il solito giocatore scarso eccetera io vi capisco perché dopo 13 anni così uno è difficile che si aspetti un cambiamento così radicale però io onestamente non mi aspettavo l'arrivo di sarri per cui dico che queste quest'inverno la lazio non può sbagliare una delle note positive è che come detto d'alfredo pudulla la lazio sta puntando giocatori di un certo livello i lasagna che hanno stati avvicinati accostati alla lazio sono giocatori che in realtà la la lazio non ha mai cercato la lazio sta cercando profili di un certo livello va bene ma bisogna portarli a casa perché dire che la lazio sta cercando giocatori di un certo livello e poi non riprendi alla fine cambia poco bisogna quest'inverno andare e fare il mercato segnale positivo se volete è che oggi è il 5 e la lazio ha già piazzato due giocatori escalante in spagna e alessandro rossi al monopoli e lukaku è praticamente fatta giocatori che non risolvono problemi dell'indice di liquidità ma sicuramente un segnale rispetto al passato dove la lazio ha fatto fatica anche a cedere i giocatori però ripeto questo è un inverno importantissimo per la lazio dove ci giochiamo tanto altra cosa in conclusione kamenovic perché da più parti si dice che kamenovic sarà primo acquisto kamenovic sarà registrato il fatto che kamenovic non è stato registrato secondo me è un segnale importante perché se reggirsi kamenovic non puoi prendere nessun extracomunitario la lazio sta provando a tenere tutte le porte aperte anche extracomunitari anche giocatori che non hanno il passaporto europeo e quindi se prendi kamenovic sei fregato e il segnale che la lazio non ha punti via subito tesserato kamenovic è un segnale in questa direzione la lazio sta vedendo se riuscirà a prendere un giocatore forte extracomunitario kamenovic probabilmente non verrà tesserato neanche a gennaio questo è il segnale positivo però ripeto sono tutte chiacchiere perché se al 31 gennaio la lazio non acquisterà nessuno o non prenderà nessun giocatore decente sarà un fallimento e mai come quest'anno la società sarà da criticare fortemente perché perché se prendi sarri poi non puoi fare un mercato mediocre come tutti gli anni